Eccoci qua, nuovo gioco, nuova sfida. E stamattina stavo cercando un nuovo gioco sul quale giocare, ma non ha avuto successo. Avevo scaricato prima Scrap Mechanic, però niente. È un giochino che permette di costruire delle cose in un mondo generato, mi sa proceduralmente, oppure no, non mi ricordo. Però sono tre anni che hanno questo progetto, mi sa che la casa è pure piccola. E non hanno fatto grandi progressi, proprio nulla. In tre anni dovevano portare la survival due anni fa e ancora non ci sono riusciti. Quindi stendiamo un velo pietoso lì. E quindi stavo pensando, quasi quasi ammazzi il tempo, gioco a qualcosa. Oggi dovrebbero rilasciare la pre-launch di Satisfactory, che non hanno ancora lanciato. Questo non ho capito bene perché, non ho fatto una ricerca, quindi chissà perché. Forse erano in ritardo con la tabella di marcia. E quindi, anche avendo una libreria interessante, non sono riuscito a trovare nulla a cui giocare. Quindi mi sono installato For Honor, ho detto, ma faccio due partite giusto per caricarla online. Vedremo come andrà a finire, anche perché sono estremamente arrugginito su For Honor, non mi ricordo nulla. Non mi ricordo nulla. Sì, dovrebbe essere questo. Ma lasciamo tutto standard. Ho provato diversi personaggi su For Honor, però non so. Loroci mi dà una bella sensazione quando gioco. Oh madonna, Team Cancer contro. Poi comunque non lo so perché, ma Loroci mi scimmia tantissimo, quindi... Cazzo di mappa, eh. Non so manco se hanno messo delle mappe nuove su For Honor. Oddio, non mi ricordo un cazzo di tasto qua. Aspetta, questa era la Dominion, quindi dovremmo, teoricamente, dominare, conquistare le base. Qua, se non mi sbaglio, ce ne stava una a destra. Oh Cristo! Ulla! Rimani morto! Qualcuno che mi aiuta? No? Ah, giusto, si rispauna così. Ah, io. Eh, ecco qual era la combo. Improponibile. Eh, io ammetto di essere molto arrugginito. Però... Anche il mio team sta facendo abbastanza schifo, mi pare. Oh, vabbè, vado a prenderla. Oddio! Un tre contro uno un po' complicato, devo ammettere. Che qualcuno mi resta. Ci sta provando. Eh, vabbè, va a fare qui. Aio. No! Eh, 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 eh. Ah, che figa la schermata di chiusura, va? Allora, vediamo chi abbiamo contro. Vabbè, due botte in squadra. C'è uno a noi, uno a loro. Poi c'è... Cavaliere. Adonna, sto cacchio di Cesare qua. Ah, che bella mappa. Tutto tranquillo. Tenetevelo nelle mutande. Per mio cugino! Io qua di solito mi ricordo che andavo sempre alla C. Prendevo un sacco di mazzate quando andavo alla C. Però comunque mi ostinavo a voler prendere la C. E infatti, così sarà. No! Olla! Pulita! Do cazzo sto attaccando? Olè! Eh, so due. Mentre... Qua, se non mi sbaglio, stava la mega palestra. Ma si vede se qualcuno la prende all'altra parte? Ah, aspetta un'arte. Ma quali sono miei? Eh... Sì! Oh! E là! Ciao! Due, tre, quattro, cinque. O sono io forte o sono loro capocchie. Secondo me più la sei Cristo! Nope! No, 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 no! Ah, ciao! Nope! Ciao, 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 ciao! Me la date una mano qua? No? Ah, ce n'è solo uno che sta su. Vediamo se... Funziona... Eh, ciao! È un andato. Dove è l'altro? Avvisa! Per poco. Beh, diciamo che dipende sia dal team che è a disposizione, sia anche una questione di caso. Certe volte riesce a prendere delle basi, altre volte non le riesce a prendere. Dipende anche dalla coordinazione. Come on! Almeno a sto giro ho fatto un punteggio un tantino più decente. E... Penso che sia abbastanza per oggi. Quindi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale. Se non vi è piaciuto, pazienza. E... Ricordatevi di lasciare un like, un commento. E... Ci vediamo al prossimo video!